Hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai Io lo so perché tu la fede non hai Ma se tu lo vorrai crederai Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo Grazie Mon Falcone Allora facciamo una piccola sfida senza... Questa è la metà dove c'è questo signore ragazzo qua davanti Ciao come stai? Bene Lui si chiama Enzo Ciao Enzo Mi raccomando mette fuoco perché sennò dopo si vedono tutte... Sì sì tranquillo è una messa a fuoco automatica Lui si chiama Enzo Ciao Enzo Allora voi che siete alla mia sinistra Sfidate quelli che sono alla mia destra Quindi in maniera molto... Praticamente dovete fare questo Allora... Allora... Però... No di solito in giro sono tutti un po' timidi ma qua vedo che... Voi avete capito il gioco quindi sarete... avrete il doppio del volume Allora... Allora... No aspetta non sosteneteli perché loro sono i vostri avversari... Voi siete di qua... adesso è tutto a loro... Rifare... Allora... Allora... E non mollare il bambino però perché sennò... No... Nel senso che... Siete pronti? Fate... Allora... 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 E qui la gara si fa dura eh... Però io ho visto che voi siete molto tosti ho un asso nella manica... Intanto che alzate le due braccia alzate anche le due gambe... No... Forse ho esagerato un po'... Allò... 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 Adesso visto che non siamo venuti qua per dividere le piazze ma per unirle... Loro sono proprio... Venite un po' più avanti perché sennò non è in stereo e lo sento sbilanciato... Fate ancora un passo... Perfetto... Bravo Michela... Mi raccomando... Adesso tutti insieme faremo questo coro così chi sta qua intorno dice... Allora... Cosa succede là? Sono proprio forti questi... Allò... 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 Devo dire che siete veramente... Rock... Allò... Grazie a tutti. Grazie a tutti.